Il significato è un significato importante perché noi stiamo promuovendo il territorio sia a livello turistico che proprio a livello qualitativo, quindi aspettiamo tutte le persone interessate, spero che siano tante, per venire alla festa che faremo a Terriciola il 15 settembre, introdurre un po' quello che si fa, la passione, ma soprattutto bere un buon bicchiere di vino insieme. Quest'anno che raccolto sarà? Ma il raccolto di quest'anno, ad ora l'uva è molto bella, il tempo sta facendo un po' i capricci, però da domani dovrebbe rimettersi. L'uva è perfetta, è meravigliosa, abbiamo lavorato un anno di seguito per avere un prodotto meraviglioso come abbiamo e le prospettive sono buone, ovviamente la vendemia si riduce sempre negli ultimi 15 giorni, i quali determinano se sarà una vendemia di qualità oppure no. Ad ora le caratteristiche sono tutte molto alte, ripeto gli ultimi 15 giorni sono importantissimi. Quando avverrà la vendemia? Ma noi iniziamo già in settimana, domani, toglieremo il cigliegiolo, poi successivamente togliamo il bianco e di conseguenza i rosati e comunque tra una settimana, settimana e mezzo presumo che iniziamo a raccogliere tutto. Quindi per il 15 c'è verso di assaggiare? Sì, assaggiare sicuramente i vini dell'anno scorso, non certo quelli di quest'anno perché saranno in via di fermentazione e quant'altro, però al 15 siamo pronti a dare qualcosa di buono a tutti gli appassionati in questo campo. Diciamo che non è riferita solo in ambito nazionale questa festa perché molti arrivano anche dall'estero per una degustazione sicuramente di un prodotto molto importante per il territorio. Assolutamente sì, ovviamente si fa tutto a livello locale per promuovere un territorio e quant'altro, ma soprattutto facciamo ciò anche per attirare l'attenzione del turista. Il turista, secondo me, ha bisogno di conoscere, ha bisogno di essere introdotto nelle nostre terre, ha bisogno di conoscere le nostre passioni e quant'altro, ma soprattutto ha bisogno di conoscere quanto dà questo territorio. Qui dove ci troviamo? Qui siamo a Terricciola, in provincia di Pisa, l'azienda in essere è Fattoria Fibiano e siamo nel comune di Terricciola.